Buonasera, ben trovati alla nostra pagina sportiva, pagina sportiva che stasera apriamo con il calcio e con il Perugia perché nel pomeriggio a Ponte San Pietro Isola in provincia di Bergamo si è giocata la semifinale di andata della Coppa Italia di Serie D ebbene il Perugia di Pierfrancesco Battistini sembra davvero vicino al primo traguardo stagionale cioè la finale di Coppa Italia che sarà disputata al Flaminio perché grazie a un gol di Francesco Mocarelli, un gol realizzato nel primo tempo la formazione bianco-rossa è riuscita a vincere sul campo dei Bergamaschi e a apotecare la finale allora vediamo le azioni salienti in questo servizio Sceglie il 4-3-3 per la trasferta in terra lombarda nell'undici titolare Riecco Bolletta, Marri, Placentino e Mariani il maltempo appessantisce il terreno di gioco nei primi 15 minuti nessuna emozione, anzi la via è desolante con errori da una parte e dall'altra unico dato per la cronaca, l'ammunizione per Bolletta che salterà la gara di ritorno ma al 24esimo il Perugia passa la prima occasione e grazie anche al doppio errore dei locali che prima regalano un corner sugli sviluppi del quale Mocarelli si fa trovare pronto alla deviazione vincente perché messo in condizioni di battere a rete da un'involontaria deviazione di un difensore locale che invece di liberare serve al centrocampista perugino un assist perfetto da non poter sfruttare il Perugia prende in mano la situazione, il Pontisola non reagisce e tre minuti dopo rischia di subire ancora il K.O. sugli sviluppi di un calcio ad angolo battuto da Borgese questa volta ci prova Rampi ma la palla va fuori di poco il campo sembra favorire le doti fisiche dei grifoni il Pontisola si fa vedere con Mussi che intorno a mezz'ora colpisce di testa da buona posizione con il passare dei minuti la partita si fa più gradevole perché il Pontisola è costretto ad alzare il ritmo perché il Grifo ha più spazi per provare a ripartire in contropiede in due minuti infatti può succedere di tutto prima è il Grifo a sfiorare il raddoppio con Marri che si divora un gol e non sfrutta un colossale regalo della difesa locale poi è Musso a sfiorare il pari con un bel colpo di testa bloccato a terra dall'ottimo intervento di Ripa e con un bel diagonale di sinistro che buon per il Grifo si perde di un niente dal palo sinistro del portiere perugino anche nella ripresa il Perugia è primo ad andare al tiro ma la botta di Rampi non impensierisce il numero uno locale poi a quarto d'ora iniziano i cambi con Mattissini che spedisce in campo Bartolini a posto di Marri il Perugia sfiora seriamente il bis al sessantatresimo quando sul cross di Mariani sporcato da Bartolini Rampi ci prova con un velenoso diagonale di destro mentre il tiro del neo entrato Solfoni, minuto 71, è bloccato a terra da Ripa poco dopo la mezz'ora e il settantottesimo il Perugia va ancora vicino alla rete cross di Rampi, colpo di testa di Bartolini respinto da Nodari e Tappin di Mariani che spara sulla traversa a porta sguarnita il Grifo come sua abitudine non chiude e Bartolini deve pure lasciare il campo per il risentimento muscolare nel finale il Pontisola ci prova l'occasione buona capita a Lillo che servito centralmente trova il provvidenziale intervento di Tacucci Tacucci che si ripete 90 secondi dopo murando letteralmente l'ultimo tentativo di Mussi il Perugia vince così 1-0 e vede oramai la finale del Flaminio Ed ora andiamo a vederci le pagelle del Perugia e le migliori in campo Mocarelli a tutto campo e con il gol che permette al Grifo di ipotecare la finale tra i migliori ancora Tacucci in difesa non si passa bene anche Ripa che tornava a titolare dopo tanto tempo per il resto la squadra ha giocato ampiamente sopra la sufficienza Grazie a tutti